È stata una bella partita, il Cattolica ha fallito numerose occasioni, avrebbe potuto battere questa autorevole avversaria però gli errori hanno penalizzato la tua squadra che però ha dimostrato un bel calcio, un bel modo di giocare, tanta volontà, tanta velocità. Ci accontentiamo di un punto? Il calcio, il ritengo di gioco è sempre quello che decide. Abbiamo fatto una grande partita, devo fare un applauso ai ragazzi, allo staff, al mister perché abbiamo preparato la partita nonostante le numerose assenze molto bene. Abbiamo giocato al cospetto di una squadra, anche questa secondo me, da annoverare nei primi 4-5 del girone e come le altre due abbiamo fatto veramente una buona partita. Stiamo crescendo giorno per giorno, speriamo ovviamente di recuperare le tantissime assenze perché oggi l'avrei voluto giocare con tutti gli effettivi e secondo me avremmo portato a casa la posta in palio. Di fatto la meritavamo anche oggi forse, abbiamo avuto veramente 4-5 palle nitide da gol. Ancora una volta i direttori di gara dimostrano la loro scarsezza. Anche oggi è stato penalizzato il Cattolica dopo mercoledì scorso dove poteva sicuramente fare di più e sicuramente vincere. Oggi ancora una volta il direttore di gara ha fatto degli errori. Sì, ovviamente noi ci concentriamo prima sui nostri errori perché ne abbiamo fatti anche noi e poi sì, devo dire che gli arbitri in queste prime tre partite sicuramente non ci stanno dando una mano. Io spero che sia solo questione di scarsità di arbitraggi perché se no sarebbe più grave la cosa. Noi siamo una matricola, ovviamente siamo anche nel sorteggio, si è visto, siamo capitati già nelle prime tre giornate contro tre squadre forti. Purtroppo veramente anche oggi due episodi secondo me clamorosi di cui due rigori non sono stati dati. Andiamo avanti così sperando che un po' l'inezia cambi perché se no veramente mi fanno arrabbiare, ma tanto anche. Simone Lilli, un pareggio che va stretto al Cattolica San Giovanni Marignano perché avete macinato molto gioco, giocate bene, vi siete presentati davanti al portiere più volte però è mancata o la freddezza o la lucidità o forse la precipitazione. Comunque un bel Cattolica che avrebbe meritato i tre punti. Di questo ti ringrazio perché poi dalla tribuna magari si vedono delle cose che in panchina non si riescono a vedere però la sensazione di aver fatto una buonissima partita ce l'ho. Adesso poi me la riguarderò con calma e credo che poi le occasioni da gol le abbiamo magari sbagliate per un mix di quello che hai detto tu. È anche vero che poi la gioventù e soprattutto il fatto che siamo una squadra completamente nuova da costruire possa in questo momento anche incidere su alcune situazioni indubbiamente. Io personalmente volevo fare i complimenti ai ragazzi ma anche a quelli che sono entrati e anche a quelli che non sono entrati perché poi quando si fanno delle scelte sono scelte e come tali avere dei ragazzi che ripartono più forti di prima anche chi gioca magari di meno questo per me è molto importante. Ecco perché dobbiamo essere fiduciosi, dobbiamo continuare a lavorare forte perché noi possiamo salvarci solo in questa maniera qua. L'altra volta ti avevo detto che questa squadra aveva una idea di gioco oggi l'ha espresso ancora con maggior convinzione. In tre giorni sono cambiati notevolmente e l'avversario era uno di quelli pesanti. L'avversario era uno di quelli pesanti soprattutto nel reparto avanzato ma nel complesso perché ha un impianto di gioco, ha delle schematicità, dei principi che le fanno molto bene in maniera veloce e ti possono fare veramente male. È chiaro che in tre giorni non è che si inventa niente, è stata molto secondo me una partita di testa e abbiamo sofferto nel momento giusto e abbiamo continuato a macinare nell'altro momento giusto. Quindi oggi faccio i complimenti da questo punto di vista qua perché le giocate potevano essere anche migliori alcune situazioni potevano essere migliori solo per il fatto anche di fare gol per dire. Poi ci si è messa anche la traversa e va bene. Io credo che per un allenatore in tre partite aver creato queste situazioni qua è un buon punto di partenza. Limiamo alcune situazioni e poi continuiamo.